Cari amiche e cari amici, nel Vangelo c'è una frase che recita in questo modo Siate nel mondo ma non del mondo E iniziamo questo video mettendo proprio a confronto queste due tipologie umane L'uomo che dà importanza ai valori mondani e quindi si dedica a una sua vita personale cercando di realizzarsi nel lavoro, magari comprandosi una bella casa, una bella automobile e nella maggior parte delle società, in particolare nelle società occidentali Per seguire questo tipo di felicità è accettato e approvato L'importante è che non danneggi gli altri e che si rispettino appunto le leggi E questa è diventata una concezione prevalente nella società in cui viviamo Per cui l'esistenza personale rappresenta il nucleo delle gran parti delle attività umane Questo tipo di affermazione è quello che definiamo vita pubblica Anche essa, se ci ragionate, è parte della vita individuale Perché è fatta da individui e riguarda la persona In contrasto con questa prima tipologia C'è quella del cosiddetto uomo spirituale, del ricercatore, del sadaka Che ritiene che il vero centro della vita umana Vada ricercato nella dimensione metafisica Quindi il vero centro di un'autentica vita E ci sono insegnamenti molto profondi di uomini realizzati Un po' in tutti i tempi I vari saggi fondatori delle principali religioni Dei maggiori movimenti anche spirituali Dei grandi filosofi Che ci invitano in modo inequivocabili A dedicarci a questa realtà superiore E cercare di penetrare in questa dimensione Attraverso una vita altruistica e disinteressata Mentre generalmente la vita dell'uomo mondano È fondata su un atteggiamento egoico Tutti i maestri Tutti i saggi Le filosofie morali Ci dicono che la vita dello spirito È l'unica possibile Se si vuole avere una vita armonica Dunque è l'unica vita vera L'uomo realizza se stesso Proprio quando riesce a subordinare I suoi bisogni e desideri mondani Sacrificandoli ad una realtà più elevata E sempre questi saggi Queste filosofie Incoraggiano l'umanità A impostare un'assistenza individuale Fondata su valori spirituali Abbracciando appunto Queste verità universali e impersonali Che trascendono l'io Trascendono la dimensione egoica E trascendono Secondo alcune scuole Anche proprio la stessa individualità Principale differenza Tra la prospettiva dell'uomo mondano E quella dell'uomo spirituale Sta nel fatto che L'uomo ordinario L'uomo mondano Considera l'io Come il cuore della sua vita E ritiene che il suo ego Che è legato appunto Alla sua vera personalità Abbia un'esistenza molto concreta E possiede anche molto valore Perché attraverso l'affermazione Del proprio ego Si riesce ad esempio A ottenere un lavoro Riconosciuto che dia prestigio Per fare un esempio L'altra tipologia di uomo Invece Mette al centro Della sua esistenza La realtà metafisica Quindi una ricerca Profonda Una ricerca interiore E al contrario Dell'uomo Rivolto sempre all'esterno Che dà valori Ai valori mondani L'uomo spirituale Ritiene che L'esistenza personale Deve invece Essere subordinata A questa A questa ricerca Di penetrazione In questa realtà Metafisica Gesù Nel Vangelo di Luca Afferma Dice Se qualcuno Vuol venire dietro di me Deve rinnegare se stesso Prendere la sua croce E seguirmi E poi dice E' famosissimo Chi vuole salvare La propria vita La perderà E chi perderà La propria vita Per causa mia La salverà E anche queste Sono indicazioni Precisi Che invitano proprio A dedicarsi A una ricerca Finalizzata A una realizzazione Non mondana Ma che possa ritrovarsi Nel proprio centro Il regno dei cieli È dentro di voi Ma In tutte le tradizioni Troviamo un po' Questo tipo di Esortazioni Per esempio Nel Dharmapada Che è uno dei Principali canoni Buddhisti Buddha Dice che Nessuno È più alto Di colui Che non si farà Inganare Che conoscerà L'essenza Poi Dice Quest'uomo È un uomo Che ha abbandonato Il desiderio E quindi Ha rinunciato Al mondo E si è Abbandonato Con distacco Al fluere Del tempo Eppure Nonostante tutto L'uomo Orientato Invece Ai valori Del mondo E fonda la sua vita Sulla realizzazione Dei desideri Personali E ritiene Che il Dio Sia una Realtà Effettiva Individuale Una realtà Separata E non solo Gli dà Valore Ma dà per scontato Che quest'io Esista Anzi Proprio Attraverso L'affermazione Del proprio Io Riesce A Avere Maggiore successo Con le donne Un maggior Prestigio sociale E così via Quindi L'esistenza Dell'io In questo caso È data Per scontata È data Per scontata Come esistenza Reale La psicologia Occidentale È Pervasa Da Un Sentire Comune Dal punto di vista Culturale Che considera Proprio L'io Come L'asse Centrale Della Vita E questa Concezione In un certo senso Può essere Vista come L'espressione Cristallizzata Della Visione Che Ha La tipologia Dell'uomo Del mondo Di cui vi ho parlato Fino adesso Espressa però Nel caso Della Psicologia In un linguaggio Scientifico Quindi si ritiene Che la salute Mentale Sia Strettamente Legata Ad un Io Bel Strutturato Quindi Un Io Forte Un Io Coeso E dotato Di un Forte Senso Di Identità Dall'altra Parte Dall'altra parte Invece L'uomo Dello Spirito Subordina L'Io A Una Realtà Superiore Ma a volte Non si limita Solo A questo Perché In Molte Scuole Filosofiche Filosofiche Fanno parte Di Religioni Importantissime Si Arriva Proprio A Negare L'esistenza Del Dio Per fare un esempio Nel Buddismo La realizzazione Più Elevata Si Raggiunge Proprio Quando si Cessa Di Essere Una Persona Separata Indipendente Con una Propria Esistenza Il Massimo Di Questo Concetto È raggiunto Nel Sutra Del Cuore No Però Il Buddha Lo ribadiva Continuamente Anche In Altre Sutra Come Ad esempio Nel Sutra Del Diamante Dove Sosteneva Che Nessun Bosdi Satva Era In realtà Un Vero Bosdi Satva Se Coltivava L'idea Di Essere Un Io Quindi Di Avere Una Personalità E Una Individualità Separata Sempre In Oriente Nel Tao Te Ching Lao Tzu Che Questo Leggendario Fondatore Del Taoismo Che Visse In Cina Molti Secoli Fa Ebbene Attribuiva Proprio Tutti I Problemi Umani Alla Convinzione Dell'esistenza Del Io Individuale E Proprio Verso L'inizio Della Tao Te Ching L'Azio Scrive Che Le persone Sono Oppresse Da Grandi Sofferenze E Problemi Perché Sono Convinte Dell'esistenza Di Un Io Individuale Quindi Come vediamo Ci sono Veramente Visioni Contrapposte Sembra che A queste Due Tipologie Di Essere Umani Con Scusate Ho un attimo Di Sembra che A queste Due tipologie Di Essere Umani Corrispondano Ecco L'Io Come Forma Di Realizzazione Spirituale Nel Mondo Dall'altra Invece Si mette In risalto La rinuncia Proprio Dell'Io Per Poter Accedere A Una Realtà Trascendentale Oltretutto Se Pensiamo Ad esempio Al Vedanta Non Duale Ma A Moltissime Filosofie Orientale Ebbene Noi Ritroviamo Questo Concetto Che Della Impersonalità E quindi Che la Suprema Natura Umana Sia Impersonale E quindi Molti Negano Anche Proprio Il Concetto Di Personalità Secondo Queste Scuole L'uomo Raggiunge L'illuminazione E la Liberazione E la Felicità Soltanto Quando Si rende Finalmente Conto Che Il concetto Di Ego Come Ente Separato Dalla Realtà È Totalmente Illusorio E dunque Quando si rende Finalmente Conto Che Lo stesso Concetto Di Individuo È Una Grande Illusione Di conseguenza Qual è la Realtà? Ebbene La realtà Va cercata Nella Profondità Dell'essere E cos'è Quest'essere? È Qualcosa Che viene Descritto O meglio Identificato Con nomi Diversi Come Può essere Krishna O Dio Nell'induismo Il Tao Nel taoismo L'avacuità Ad esempio Nel Buddismo E Così via Ci sono Invece Altre Tradizioni Legate Strettamente Alle Religioni Teistiche Come Il Giudaismo Il Cristianesimo E L'Islamismo Che Concepiscono L'essere Umano Come Un'anima Individuale Che Deve Arrendersi Alla Volontà Divina Quindi Vivendo Una Vita Ricca Di Virtù Di Altruismo E Di Sacrificio Di Sé La Ricompensa Effettiva Queste Prospettive Teistiche E Monoteistiche Per L'esattezza Arriverà In un'altra Vita Pensiamo Solo Al Sermone Della Montagna Famosissimo Che Dice Beati Voi Quando Vi Insulteranno Quando Vi Perseguiteranno Quando Mentiranno Su di Voi Parleranno Mali Di Voi Per Causa Mia Dice Rallegrati Vi Risultate Perché Grande Sarà La Vostra Ricompensa Nei Cieli Ovviamente Ho dovuto Fare Delle Generalizzazioni Perché Ci Sono Delle Religioni Orientali Che Concepiscono Dio Come Persona Ad esempio Basti Pensare Alle Scuole Vaisnava Tra queste La più Famosa Sono I Devoti Di Karisna Non Iscon Che La più Famosa In Occidente Ma In linea Di Massimo Insomma Penso Di Aver Dato Una Panoramica Per Potersi Orientare E Proprio Per Uscire Però Da Un'eccessiva Generalizzazione Voglio Sottolineare La Componente Mistica Legata Anche Al Giudaismo Al Cristianesimo E All' Islamismo Che È Molto Vicina In realtà Alla Visione Orientale Della Non Esistenza Ultima Della Persona E Quindi Della Non Esistenza Di Unio Personale Al Punto Che I Mistici Cristiani Concepiscono Dio Come Ultimo Approdo Ed Essenza Dell'individuo Al Punto Che Maestereca Eckhart Uno dei più Grandi Mistici Cattolici Cristiani Arriva nella Sua preghiera A dire Signore Dio Liberami Dal tuo nome Liberami Dalla tua Immagine E quindi Nel Fondo Dell'anima Così Definiva Il Centro Maesterecart Quello Gli orientali Chiamano Brahmanna Lì dove Avviene L'unione Mistica Non Vi è Spazio Per Alcun Nome Per Alcun Immagine Per Alcuna Definizione E questo Avete sentito Citare Questa Frase In Molti Video Se Anche Un Angelo Del Signore Vi Apparisse E vi Desse Delle Indicazioni Non Lo Ascoltate Perché La Vitta Del Monte Carmelo Che Corrisponde Al Fondo Dell'anima Di Messerecart Che Corrisponde Al Brahman Del Vedanta Non Duale Che Corrisponde Alla Vacuità È Qualcosa Di Totalmente Impersonale Ho Detto Questi Vari Nomi Non Per Fare Uno Sfoggio Di Cultura Al Quale Non Sono Minimamente Interessato Ma Semplicemente Per Ribadire Il Concetto Tradizionale Che La Realtà Ultima Seppur Identificata Con Nomi Diverse Perché Manifestatasi In Periodi Storici Diversi E In Culture Molto Diverse E Anche In Periodi Storici Molto Lontani Tra Loro Ebbene Questa Realtà Ultima Di Cui Ci Parlano I Mistici Nelle Varie Tradizioni È La Stessa Identica Lo Sentiamo Nelle Descrizioni Che Cercano Di Fare I Mistici Nonostante Che È Una Realtà Che Tutti I Mistici Dicano Che Non Può Essere Descritta Attraverso Le Parole Però I Mistici Danno Delle Grandi Indicazioni E si Comprende che Parlano Della Stessa Della stessa Realtà Quindi Questa Visione Secondo Cui La Realtà È Unitaria E Vive In Dio Indica Che Dio Personale Non Ha Un'esistenza Propria E Qui Ho un Brano Della Nube Della Non Conoscenza Che Adesso Vi Vado A Leggere Un Piccolo Brano Egli È Il Tuo Essere Della Nube Della Non Conoscenza Siamo In Piena Tradizione Mediovale Cristiana E' Un Monaco Che La Scrive Egli È Il Tuo Essere E Lui Sei Ciò Che Sei Questa Impressionante Come Coincide Proprio Con Gran Parte Delle Filosofie Orientali E Continua Allora Dice E Lui Sei Ciò Che Sei Non Solo Perché Egli E La Causa E L'essere Di Tutto Quanto Esiste Ma Perché È La Tua Causia È Il Tuo Nucleo Profondo Il Nucleo Più Profondo Del Tuo Essere Così Egli È Anche Uno Con Tutte Le Cose Tutte Le Cose Sono Uno In Lui Perciò Lo Ripeto Tutte Le Cose Esistono In Lui Che È L'essere Di Ogni Cosa Qui Ci spostiamo E Ho trovato Un altro Brano Interessante Nella Tradizione Invece Musulmana Islamica E Un grande Sufi Che si Chiamava Ibn Arabi Questo Si Spinge Ancora Più Là Nel 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 Sua Nel Suo Sentire Mistico Si Spinge Ancora Più Là Dell'autore Anonimo Della Nube Della Non Conoscenza Che Era Cristiano Quindi Qui Siamo Vi Dicevo Nella Piera Cultura Coranica E Scrive Ibn Arbi Che È Stato Un Grande Mistico Ma Che Un Grande Filosofo Scrive Queste Parole E Per Questo Il Profeta Ha Detto Chi Conosce Se Stesso Conosce Il Suo Signore E Ha Detto Conosco Il Mio Signore Attraverso Il Mio Signore Il Profeta Vuole Così Indicare Che Tu Non Sei Tu Tu Sei Lui Senza Te Pensate Che Potenza Tu Sei Lui Senza Te Ecco La Privazione Dell'Io L'assenza Dio E Continua Non Che Egli Entra In Te Né Che Tu Entri In Lui E E Né Che Egli Promana Da Te O Che Tu Promani Da Lui E Conciò Non Si Intende Che Tu Sia Alcunché Che Esiste O Che Esistano I Tuoi Attributi Ma Si Intende Che Non Sei Mai Stato Ne Sarai Mai Né In Te O Attraverso Lui Né In Lui O Insieme A Lui Non Cesserai Mai Di Essere Ne Esisterai Ancora Tu Sei Lui Senza Nessuno Di Conosci Questa Esistenza Conoscerai Dio In Caso Contrario No Questo Grandissimo Ibn Arabi Come vedete L'essenza Della tradizione No Quando vi dico L'essenza Della tradizione Non va E' Proprio La medesima Anche se Espressa In luoghi Diversi In culture Diverse E Questi Insegnamenti Evidente Che Indicano Unanimamente Che La vita Personale E Nettamente Inferiore Rispetto A quello Che riguarda La dimensione Metafisica L'accesso A quello Che potrebbero Essere Chiamato Ma qui Qualsiasi parola Si usa Impropria I regni Superiori Ma allora Noi Dobbiamo Interrogarci Su un fatto In base A Quello Che vi ho Raccontato In questo Video Dobbiamo Interrogarci Perché La maggioranza Degli uomini La maggioranza Dell'umanità È completamente Fuori strada Cioè Se la realtà È che non Esiste Un io Individuale Quando noi Accendiamo La televisione O leggiamo O leggiamo O leggiamo I giornali O Vediamo Molti video Su internet Noi ci rendiamo Conto Che si dà Per scontato L'esistenza Dell'io Anziché Come vi dicevo Prima Proprio Attraverso L'affermazione Del proprio Io Si può Ad esempio Diventare Famosi Dei noti Cantanti Dei noti Calciatori E così via No? E quindi L'io Viene dato Come qualcosa Non solo Che esiste Ma qualcosa Di scontato E che è anche Utile Proprio Per la propria Affermazione Individuale Ma allora Tutta l'umanità Che tendenzialmente Conduce una vita Mondana È completamente Fuori strada Possibile Che miliardi Di persone Sbaglino E abbiano Sbagliato Nei vari Periodi Storici In un Modo Così Grossolano Possibile Che così Tante persone Siano Vessute Nella Piena Ignoranza Lontane Dal centro Lontane Dalla propria Natura Al punto Da prendere La direzione Opposta A quella Che dovrebbero Imboccare Per Realizzarsi Ovviamente Molta gente Ritiene Che la vita Del mondo Sia In antitesi Con la vita Dello spirito E con la verità E molti Maestri Hanno affermato Che Non è quella Quella Che non è quella Vera O quella Religiosa Però Continuo A porvi Questo Interrogativo Possibile Che la maggioranza Degli esseri Umani In tutti In tutti In tutti I continenti In tutta La storia Si è andata Completamente Fuori strada Dedicandosi A una vita Completamente Rivolta All'esterno E dando Per scontato Che si sta Univio E' possibile Che siano Così poche Persone Così Ristrettissimi Gruppi All'interno Spesso Di istituzioni Religiosi Ma non necessariamente Spesso Anche di scuole Filosofiche Ma in ogni caso Pochissime persone Abbiano Compreso Che la realizzazione Della propria Natura Si ottiene Rivolgendosi All'esterno E mettendo In dubbio La realtà Effettiva Dell'io Possibile Che le cose Siano andate Così E perché E' accaduto Tutto Questo Sarà Il tema Del Prossimo Video Per il momento È tutto Un Caro abbraccio Marco Cosmo Prossimo Cosmo Prossimo Prossimo